ciao sono valentina e oggi voglio mostrarvi tutti gli acquisti che ho fatto quando sono stata al mare non sono tantissimi però sapete che ci tengo a mostrarvi sempre le mie novità poi come avrete notato dall'anteprima c'è una new entry per quanto riguarda il mio accessorio preferito e quindi eccomi qua iniziamo con l'abbigliamento ho comprato due paia di pantaloni uno lungo e uno corto vi mostro quello corto che è fatto così qui bianco ma è un bianco non troppo trasparente perché a me piace tantissimo il bianco in estate però sempre l'ansia che mi si veda il sotto anche se questo genere di pantaloncino sinceramente lo utilizzo più che altro in vacanza quindi anche se si vedesse il costume o la mutandina sotto diciamo che non mi faccio tanti problemi ecco in città no perché lì sì che mi faccio i problemi e trovo siano carinissimi anche perché questa è una fantasia troppo troppo carina bella estiva fresca c'erano vari modelli varie colorazioni ho scelto questa perché mi piaceva molto poi vedete con un po di abbronzatura come già spicca di più questo invece è il pantalone lungo io adoro tantissimo in estate questo genere di pantalone anche perché quando vado a lavorare quando esco quando devo fare un qualcosa di pratico veloce o magari becchiamo la giornata frescolina c'è il temporale sapete quei giorni che purtroppo in estate capitano io mi metto questi e sono a posto poi rimangono comunque freschi perché sono in 100 per cento cotone anche quelli che vi ho mostrato prima e mi piacevano tantissimo e anche qua la fantasia trovo che sia molto molto carina elegante con questi gioiellini fiorellini mi piace molto poi la base nera fa già elegante di suo quindi volendo anche la sera quando fa appunto un po più frescolino perché no anche se io non sono da pantaloni ma vestitini tutta la vita ne ho non so quanti nell'armadio non ci saranno neanche più purtroppo però ci sta sempre un pantalone da mettere lì che non si sa mai concludiamo l'abbigliamento con un costumino vi mostro la parte di sopra tanto sotto è una classica mutandina perché a me piacciono fatte così saranno antiche faranno un po nonna ma io mi trovo comoda con queste mutandine mi piacciono molto quelle un po più strettine dietro però queste sono più comode diciamoci la verità forse qualche anno fa avrei messo solo quelle tutte ma adesso voglio stare comoda quindi ok questa è la parte di sopra la fantasia trovo sia molto carina un po briosa mi piacciono i colori un po accesi poi vabbè adesso è così vediamo con l'andare delle lavate se rimarrà così bello strong e poi mi piacciono molti fiorellini sul rosa lilla giallo c'è questa parte qua che di solito elimino perché in estate uso solo costumi a fascia ultimamente li voglio solo così questo poi si allaccia come vuoi tu quindi comodo perché chi è piccola come me in tutto purtroppo se ha questo tipo di chiusura almeno è tranquillo perché se avessi il gancetto deve proprio essere giusto e calzare bene e io essendo che non sono una giunonica ecco è sempre un po difficile trovare le taglie perfette di costume se mi seguite su instagram avete sicuramente visto la foto in cui lo indossavo se non l'avete visto perché non mi seguite andate subito perché dovete guardare anche su instagram quindi aprite l'infobox e andate e non spaventatevi se vedete tre profili quattro instagram voi andate su tutti e siamo a posto però il mio principale è underscore vale pinkie underscore che trovate poi anche passiamo adesso agli accessori e di questi diciamo che ne ho comprati alcuni il primo che vi mostro è questo qui questo braccialetto con conchiglie che non deve assolutamente mancare io ho già la collana di conchiglie e il bracciale barra cavigliera di conchiglie dico barra cavigliera solo perché essendo che come dicevo prima ho tutto piccolo anche il polso cioè guardate faccio il giro due volte quel bracciale lo uso come cavigliera perché mi si gira e si rigira e non mi piace ho trovato questo qua in un negozietto etnico bellissimo infatti ho fatto molti acquisti lì e vedete come taglia va benissimo perché da bambini mi piacciono molto questi bracciali mi piace tutto quello che conchiglia in estate anche se non sono al mare perché mi dà allegria gioia voglia di mare sempre e io adoro il mare quindi è sempre con altro accessorio un po marino sono questo paio di orecchini con stella marina sono veramente bellissimi io adoro 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 sono bagnati nel loro rosa e mi piace perché poi con tutti gli accessori che ho sono sempre nello stesso negozio poi mi è stato preso questo bracciale un po particolare bello importante sempre vedete con le solite conchiglie che mi piacciono tantissimo c'era in varie colorazioni ho preso questa in color oro sempre lo stesso fatto che mi piace avere una nuance unica e loro mi piace tantissimo e quindi ecco di solito lo metto a questo braccio qui che l'effetto è meraviglioso anche questo lo avete visto lo vedrete su instagram quindi cosa vi detto prima in un negozietto invece di pietre cose un po particolari anche quello leggermente etnico ho preso di questo brand malù un paio di orecchini un altro paio di orecchini e adesso vi mostro qui c'è anche il suo certificato c'erano varie colorazioni e io ho scelto questa c'è lo svaroschino qua sopra e poi la perlina sotto è un grigio perla cangiante perché se lo si guarda alla luce sembra che abbia all'interno l'arcobaleno e sono molto fini piccolini proprio così da tenere lì tutti i giorni quindi andrò a cambiare tra questi e questi qua per questo periodo perché mi piacciono tantissimo ovviamente cosa vi lascio per ultimo il mio pezzo forte però adesso parliamo sempre di borse perché mi sono comprata una nuova borsa mare sono partita da casa con una borsa mare sono arrivata con un'altra più che altro perché la borsa mare che utilizzavo vedevo che dove c'è la cerniera si stava un pochino strappando rovinando e non volevo rimanere così senza poi borsa e tragitto spiaggia casa vicinissimo però poi come gestivi il tutto ecco allora ho deciso di approfittare e dire ma se prendiamoci una borsa mare perché non ne ho in realtà ho alcune borse mare però anche quando si parla di borse mare io devo cambiare ogni tanto devo cambiare e quindi ora vi mostro la qua la mia nuova borsa mare in cotone 100 per cento con i fenicotteri rosa ai manici in corda c'è la cerniera adesso come potete notare bella pesante e piena perché anche se non sono più al mare comunque non so se voi fate così ma io poi la borsa mare la vado a riempire già con le cose che mi dovrò riportare al mare la prossima volta quindi ci sono già le ciabatte ci sono già gli asciugamani c'è la pochettina volete un what's in my beach bag volendo si può fare perché è già bella piena quindi possiamo farlo fatemelo sapere perché non sarebbe male forse l'ho già fatto qualche anno fa però un update cista e finalmente siamo arrivati al pezzo forte in tutto perché è stato un acquisto molto però ne valeva la pena l'ho preso prezzo pieno l'ho presa che per la uscita mi piaceva un sacco volevo una borsa così proprio così e quindi ho preso in mano il portafoglio e ho detto ok facciamoci un regalo di vacanza e quindi mi sono presa questa magnifica poi va bene piacere il genere però magnifica borsa per l'estate non sapete da quanti anni cercavo una borsa così un modello così veramente io sono entrata in negozio con l'idea di prendere sempre della stessa marca sempre dello stesso materiale un modellino di tipo secchiello che era molto bello è però a parte che non aveva la chiusura ma comunque era di difficile ingresso per persone che vogliono rubare ma poi ho visto questa che ovviamente non era in programma non era neanche in vetrina ma era appena arrivata mi hanno detto guarda della stessa marca fatta un po più grande così c'è questa e io ho detto no è bellissima io la volevo così questa forma anche perché avendo una bambina io dentro la borsa non metto solo cose per me ma anche cose per lei forse più cose per lei e quindi anche se è costata una cifra ho deciso di comprarla perché è veramente stupenda in raffia c'era soltanto questa colorazione ma bellissima perché io la volevo così ci sono i manici in cuoio la tracolla che per me deve esserci quasi sempre in cuoio anche lei è fatta in questo adesso vabbè non guardate cosa c'è dentro che c'è un disastro è fatta in questo modo non a cerniere ma questa parte in cotone che tu tiri chiudi e voilà sei a posto la puoi portare tracolla spalla braccio a mano in tutti i modi possibili immaginabili è una grandezza che per me è perfetta perché non sono troppo grande in tutto ritorniamo al discorso è bellissima magari vi faccio poi una foto e ve la pubblico su instagram e mi piace mi piace tanto cioè è molto semplice però è un qualcosa di meraviglioso il marchio è questo qua perché poi mi sono tenuta il cartellino questo è il marchio è stata realizzata a mano nel rispetto delle tecniche della raffia è naturale c'è il cotone c'è la parte in cuoio ho preso un qualcosa di artigianale che amo anche se ho speso quel che ho speso sono molto 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 soddisfatta veramente ho visto tante borse a prezzi stracciati anche solo ho guardato la vetrina di Zara e di C&M ma piuttosto di spendere poco ma di avere proprio una qualità da schifo preferisco spendere di più e avere un prodotto che mi durerà negli anni spero perché comunque questo materiale è abbastanza delicato bisogna stare attenti a non incepparsi qua nella trama però ecco un minimo di delicatezza e poi per anni sono a posto anche se io amo le borse quindi chissà quando arriverà la prossima bene questo era tutto il mio haul fatto al mare spero vi sia piaciuto spero soprattutto di non essermi dimenticata qualcosa perché io dimentico sempre qualcosa poi a volte ve lo scrivo nell'info box o ve lo dico su instagram e cerco di inserire quello che ho dimenticato in altri video però dovrei aver mostrato tutto nulla se questo video vi è piaciuto spolliciate e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto vi ringrazio tantissimo per la visione vi do un bacione enorme per la pazienza che avete avuto per la visione lunghissima del video perché poi quando mi metto a parlare lo sapete sono fatta così però i video all per quanto mi riguarda sono anche chiacchiera mentre mostro faccio anche due parole con le mie amiche virtuali ci vediamo prestissimo ciao